Sono in superstrada, di ferie è il primo lunedì, da quattro ore in coda e ho la pipì. Adesso magari accosto e la faccio contro lì, ma un contadino dice... Viene fuori con il ferro in mano, quello che serve a tagliare l'erba, avete presente? Quella di una volta. Da vedre pisciare sui pandori, al temer. Un signore, un lord. Ma ho la pipì, ho la pipì, ho la pipì, ho la pipì. Meglio andare via, via da qui. Ed ora mi fermo dietro un camion, la faccio qui, esce il camionista. Il camionista con un Volvo del 72, al tirare il Volvo veder, con la mascherina tutta arrugginita, col cappello e il sigaro, con gli uccei. Ti guardo lì, allora capo, ho tagliato tre secondi per evaporare dal mio camion. Altrimenti se saldo, e vedete questa, l'energiav dal 32. E non dico che bisogna finire. Un gran lord, anche io, si esprime poco, ma si fa capire. Anche se sei straniero lo capisci. Sì, 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 sì. Ritiro dentro tutto. Che ritirare dentro tutto, a metà strada, non è facile. Adesso non so, le donne, ma noi uomini siamo lì, ma... Cioè, praticamente, il rene fa questo gioco. Prendete una sporta di plastica e andateci sotto con l'accendino. Si ritira. Cioè, l'ena spardata. Non è comodo subito. Non ci provate a casa, signori. Mamma, che brutto sguardo ha quello lì. Ma ho l'AVP, ho l'AVP, ho l'AVP, ho l'AVP. Dove posso farla, se neanche qui? Sei sotto un sole coccente da ore. Ormai non capisci più niente. Hai le allucinazioni. Sì. L'Inter ha detto la Champions League. Ah, no, un'altra cosa. La potevi risparmiare, Nico, questa? Va bene. Ecco, finalmente, l'autogrill è proprio lì. L'autogrill? Vabbè, ti ho detto che abbiamo le allucinazioni, scusa. Adesso vado di corsa e la faccio lì. Scendo dall'auto, ma un cartello scorro lì. Anche nel miraggio. Bagno fuori, uso non agibile qui. Ma ho l'AVP, ho l'AVP, ho l'AVP, ho l'AVP. L'AVP che aveva. Mi ha fatto proprio così da un vesto. Sì, sì. Ho l'AVP, ho l'AVP, ho l'AVP, ho l'AVP, ho l'AVP. Ho l'AVP, ho l'AVP. Ho l'AVP, ho l'AVP, ho l'AVP. Ho l'AVP, ho l'AVP, ho l'AVP, ho l'AVP. Una piscina, vedo lì. Cominci a vercela un po' a morte con i lidi. Arrivi in albergo e dici, adesso fai un bel gesto. Basta, adesso mi butto e la faccio qui. La faccio qui, la faccio qui, la faccio qui, la faccio qui. Una lorne giallo attorno. Bella roba. Lo faccio qui. Grazie.